Ci inventiamo che lui e Claudio dovevano fare un pezzo a quattro con figarra e piccone E gli mandiamo un messaggio ma tipo a mezzanotte Hanno chiamato Salve Valentino Hanno detto che vogliono fare un pezzo Devono fare il pezzo della sella A lui? Qual è il pezzo della sella? E lui iniziamo a fare Claudio guarda il pezzo della sella Se non conosci figarra e piccone E' veramente imbarazzante Claudio E quindi gli diciamo che serve questa sella? Andiamo a letto dicendoci domani mattina il primo che si sveglia gli dice che è uno scherzo Il problema è che noi ci siamo svegliati con un messaggio di Claudio che diceva Raga risolto Sono andato a San Vito lo capo alle 7 e un quarto di mattina E giustamente a quel punto era brutto dirgli è uno scherzo Sta tornando a San Vito facciamolo tornare con la sella Sta tornando a San Vito faccio